ciao oggi vi mostrerò come attaccare la skin alla pelle della nostra batteria iniziate spellicolando una parte e piegate la carta siliconata ora centrate la skin alla pelle e fate aderire la parte che avete spellicolato con la spatola una volta che questa avrà aderito alla pelle andate a staccare completamente la carta siliconata dalla skin e senza fatica una volta che la skin avrà aderito alla pelle la girate e attraverso l'utilizzo della spatola fate fuoriuscire l'aria partendo dal centro e andando verso l'esterno l'air free system vi permetterà di far fuoriuscire perfettamente l'aria attraverso dei micro canali presenti sulla skin controllate che non ci siano bolle residue una volta che avrete fatto fuoriuscire completamente l'aria avrete la vostra pelle personalizzata ha 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 mesma ma 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 Grazie a tutti.